Mara Venier ha aperto la nuova edizione con il viso rigato di lacrime. Commozione, dolore e emozioni forti al punto che per qualche interminabile secondo ha strozzato al voce della conduttrice, sembrata sul punto di non riuscire a continuare. E invece, da grande professionista qual è, ha ripreso subito il bandolo della matassa, riprendendo il discorso che ha dato il via alla sedicesima edizione targata Venier, un record. Un record che non sarà migliorato visto che l'artista veneziana ha fatto sapere, e stavolta è convinta in maniera definitiva, di non voler continuare per un altro anno. Quando l'anno scorso ho detto che era l'ultima Domenica Inn, io ero molto convinta. Anche quest'anno pensavo di non farla, ma sarà l'ultima, aveva detto. L'apertura di questa stagione è stata caratterizzata dal ricordo di Luca Giurato, la persona che l'ha chiamata per la sua prima Domenica Inn nel 1993. Si riparte. Grazie a tutti. È la mia sedicesima edizione e ho cominciato con la stagione 1993-94 di Domenica Inn e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a sé Luca Giurato e voglio ricordare quell'edizione così. Queste le parole di Mara che, dopo aver mandato in onda un filmato in ricordo di Giurato ha concluso. Per te Luca. Ciao Luca, se sono qui ancora oggi è solo grazie a te. Luca Giurato è morto l'11 settembre 2024 per un infarto fulminante. Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate, confermava in lacrime alla dn Kronos la moglie Daniela Vergara. Grazie alla sua professionalità e simpatia nel corso degli anni è diventato un volto noto e amato dal pubblico italiano. Tanti programmi a cui ha preso parte. Tra questi Uno Mattina, Domenica e nell'Isola dei Famosi. Giurato è stato famoso anche per i suoi lapsus, ripresi e diventati un cult, dalla Gialappa S-Band nel programma Mai Dire Goal e non solo.